Meglio Leonardo Di Caprio o Peppino Di Capri? Beh per questo ruolo qui è assolutamente meglio Peppino Di Capri poi magari per certi ruoli che ha interpretato Leonardo Di Caprio magari Peppino non era proprio adatto cioè voglio dire però per suonare e cantare comunque però comunque voglio vedere Di Caprio a cantare lo voglio vedere io insomma non so quanto potrebbe raggiungere le vette del maestro però per questo film era assolutamente se Leonardo Di Caprio avesse detto lo faccio io non avrebbe detto no, abbiamo Peppino Di Caprio Come è andato a girare questo film con questo cast? No benissimo, benissimo come diceva prima Greg il cast è perfetto ma non solo tra il gruppo di protagonisti era perfetto in tu cioè la cosa piacevole è vedere anche un attore che dice due battute ma quelle due battute sono perfette dette bene e divertenti quindi si torna a quei film dove tutti sono giusti e perfetti per il ruolo e per il film